Ciao ragazzi, sono Azzurra Piccardi e oggi vorrei mostrarvi come installare le azioni all'interno di Photoshop in quanto molti di voi mi hanno chiesto come si fa, soprattutto studenti, perché il corso Photoshop Mastered High Hand Retouching per Beauty e Moda richiede l'installazione di alcune azioni che metto a disposizione per gli alunni. Non solo per coloro che non sono iscritti al corso Photoshop Mastered, potrebbe tornare comunque utile in quanto presto rilascerò nel mercato dei preset molto utili e carini per fare color grading, ma questo è un piccolo spoiler che vi faccio. Iniziamo. Dunque andiamo nella nostra cartella dove abbiamo i nostri preset e andiamo ad aprirlo. Solitamente al momento del download i preset, almeno i miei preset, si presentano in file zip, cioè compressi. Quindi andiamo a prenderne una a caso, l'ultima, la estraiamo e vedete che ha estratto il nostro file. Andiamo adesso ad inserirlo all'interno di Photoshop dove andiamo nella tab delle azioni, che se la vedete diversamente non vi preoccupate, probabilmente avete impostato l'impostazione Button Mode, dove la visualizzazione è a forma di bottone, come il nome suggerisce. È molto semplice e intuitivo. Torno all'altra modalità che io prediligo. E andiamo a caricare la nostra azione. Per fare questo dobbiamo andare sul menu della tab delle azioni, quello a forma di hamburger, come lo chiamo io, e andiamo a caricare l'azione e ce l'andiamo a ricercare laddove l'abbiamo salvata. Apri. Ed eccola qua. Questa è la nostra azione. che in modalità Button Mode si visualizza in questo modo. E adesso, semplicemente per applicare la vostra azione, se siete nella modalità Button Mode dovete soltanto cliccare e applicare la vostra azione. Altrimenti, se siete nella modalità classica, dovete andare a premere, a selezionare l'azione giusta, perché qui dentro a questa cartella ce ne sono due. Io ho la mia fotografia a 8-bit, quindi seleziono la giusta azione per immagini a 8-bit. Premo Play. La mia azione viene applicata. Per qualsiasi modifica che intendete fare alle vostre azioni, perché magari per sbaglio le avete caricate doppie, non sapete quale sono, volete modificarle, andate nell'altra visualizzazione, quella classica, cliccate sull'azione e potete eventualmente cancellarla, come sto facendo io, perché già ce l'ho. e tornare a riorganizzarmi le mie azioni. Semplice, facile e veloce. Grazie per aver guardato questo video. A presto.